Sono stati sei sindaci siciliani ad incontrare il premier Matteo Renzi e ad esporre i problemi delle loro città, dalle più piccole alle più grandi. Ad aprire l'incontro al centro polivalente Michele Abbate, il segretario provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Gallè. Tre minuti a favore del Siletti con impeto e passione. Un paese che sa dire solo no e un paese che ha smesso di credere nel proprio futuro. Ed ha continuato la battaglia per le riforme e parte da Caltanistetta, tra Zolfo e Sassi. Ad introdurre gli interventi dei sindaci il segretario regionale del Partito Democratico, Fausto Raciti, che li ha definiti gli uomini di frontiera. E mentre sfilavano ad uno ad uno i consiglieri comunali, i sindaci della provincia, deputati, unico rappresentante del governo regionale, Nisseno Gianluca Micicchè, assessore al lavoro, grande assente il presidente della regione, Rosario Crocetta. Primo tra i sindaci Giovanni Ruvolo, con la fascia tilcolore, solo lui ad indossarla, che ha parlato dell'importanza dell'area vasta creata anche e soprattutto insieme al sindaco di Enne da Grigento. E poi la Corte d'Appello, presidio di legalità che non va soppressa, è un lungo commosso applauso in ricordo di Michele Abbate, citato nell'intervento del primo cittadino che ha dato il nome alla struttura e che ha ospitato l'incontro con Renzi. Eterogenea la scelta delle testimonianze dei primi cittadini, dai paesi più piccoli al sindaco di Catania. Rosaria Stadarelli, il sindaco di Misilmeri, Paolo Amenta, il sindaco di Canigattini-Bagni, il vicepresidente del Lancio, e poi Filippo Spataro, sindaco di Comiso, Enzo Bianco e Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia. Eletto il borgo più bello d'Italia 2016. Un divertente siparietto, quello nato al momento della consegna di un dono da parte del sindaco Leo Ciaccio, dei dolci tipici di Sambuca. Non sono cannoli, ovviamente a battuta di chiaro sapore cuffariano, caro Matteo, ma sono ugualmente energetici e ti serviranno. Ascoltato in silenzio tutti il premier, seduto in prima fila tra il sottosegretario Davide Faraone e il segretario regionale del PD Fausto Raciti. Ed è poi salito sul palco, ha preso la scena ed ha cominciato ad arringare. Lo sviluppo parte dalla Sicilia che deve ripartire, da allora le infrastrutture, come già aveva accennato i giornalisti che lo attendevano all'arrivo. Ma non solo, ha parlato anche di un rilancio d'immagine e da qui la scelta di organizzare il G8 a Taormina. Un leader straniero disse, ha raccontato che la Sicilia è solo mafia e noi allora gli dimostriamo che non è così. Cambiando addirittura la location, infatti era prevista a Firenze, come città che avrebbe ospitato l'incontro dei grandi della terra. E a un certo punto ha detto, bene oggi non parlerò di referendum. E con un brussio notevole in sala, gli è stato addirittura richiesto da parte del pubblico di parlarne. Allora è ripartito con il solito leitmotiv, rivolgendosi ai giovani, seduti a terra dinanzi le prime fila, spiegando il valore della riforma costituzionale della bellezza della carta costituente. Ha smentito il potenziamento del ruolo del premier ed ha spiegato ai ragazzi il bicameralismo perfetto. Un'ora tutta di un fiato quella trascorsa al centro Michele Abbate dedicata per lo più alla gente e in realtà poco alla politica.